buonasera ma questo è un sexy shop proprio per gay? ah wow mi piace comunque io perché comunque l'onestà è la base di tutto vorrei dire che sono minorenne sono minorenne no no però aspetti aspetta 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 no 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 perché vedo dei frustini qua che mi piacciono molto ma sono minorenne io sono stato onesto perché volevo volevo essere no aspetta io non faccia così piuttosto no 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 non mi spinga per favore piuttosto me lo butti da dietro non mi spinga così con le mani usiamo il cazzo al posto delle mani per favore no ma per favore io sono stato onesto per vedere che sono minorenne o sono stato onesto mina no perché perché devi incavolarsi così no perché mi stai prendendo il culo per di andare fuori no 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 io sono stato onesto dai fammi ai coglioni porca dio oh oh si è calma oh io ho detto oh con calma usiamo il cazzo non le mani per favore usiamo il cazzo oh oh ma usiamo porca troia sì Grazie a tutti.